Frankenstein 2000, Ritorno dalla morte, è un film abbastanza curioso, nel senso che ha avuto una genesi un po' particolare. Allora, innanzitutto era un tempo, che erano già degli anni, che Aristide voleva fare un altro horror, perché nella seconda metà degli anni Ottanta, fino appunto a Frankenstein, che è del 91, aveva fatto più che altro film erotici, di vario tipo, però fondamentalmente erotici. Come produttore invece aveva esordito con il primo film di Michele Soavi, Deliria, che poi era stato seguito da altri horror, per esempio la trilogia delle case, la casa 3, la casa 4 e la casa 5, altri film come DNA Formula Letale di Luigi Montefiori e così via. Però evidentemente il fantastico, l'horror, il thriller, era sempre stato nelle sue corde. Ha fatto l'erotico, poi in seguito l'hard, a volte contemporaneamente, però la sua cifra vera, la sua passione autentica, rimaneva l'horror. Per cui a un certo momento esisteva una sceneggiatura che aveva scritto Michele Soavi, che all'epoca collaborava anche come aiuto e come sceneggiatore appunto per Aristide, che era questo ritorno dalla morte. Però, insomma, voleva cambiarla. Aristide voleva cambiarla, mi chiamò tramite Lucio Fulci, perché avevo scritto dei film per Fulci e poi appunto lui stava preparando Le Porte del Silenzio come produzione per Fulci. E quindi ci siamo conosciuti, era appunto il 91, l'inizio del 91, e mi diede questa sceneggiatura da rielaborare, perché lui voleva fare in realtà Frankenstein, ovviamente, ossia voleva fare un Frankenstein moderno, chiaramente, voleva fare un film che in qualche modo però si riallacciasse al libro di Mary Shelley, sì e ovviamente anche ai film, ai primi film, soprattutto a Frankenstein di James Whale, per esempio, fatti appunto sul mostro di Frankenstein. E quindi mi sono attenuto a queste sue indicazioni naturalmente e abbiamo, Donatella Donati e io, ovviamente con la collaborazione di Aristide, scritto questa storia. In parte la sceneggiatura precedente è rimasta, in altre parti invece è stata modificata. E personalmente mi sono ricordato di due film, uno a Buio Mega, non a caso la protagonista di Frankenstein 2000, e ci siamo al reale, la stessa appunto di Buio Mega. E lì cos'era? Era una ragazza imbalsamata dal suo fidanzato, che l'amava in maniera morbosa, e quindi trafugata dal cimitero e poi la teneva in casa, commettendo poi dei delitti atroci in suo onore, eccetera. Qui invece è una ragazza in coma profondo che guida telepaticamente un suo amico, un anziano pugile, che viene ingiustamente accusato del suo stesso stupro. Quest'uomo viene ucciso dai complici dei veri violentatori in carcere, però appunto servendosi dei suoi poteri telepatici lo fa risorgere e comincia ovviamente ad attuare una vendetta terribile. Questo per quanto riguarda le differenze delle due storie, tra appunto Buio Mega e Frankenstein 2000 che sono accomunate dalla stessa protagonista. L'altro film invece che mi è venuto in mente è un film di Fulci che si chiama Enigma, e anche lì c'è una ragazza in coma, per uno scherzo crudele perpetrato ai suoi danni dai suoi stessi compagni di college, che appunto non guida telepaticamente come in questo caso, ma si impossessa, una sorta di transfert del corpo e dello spirito di una nuova allieva del college stesso. E appunto si serve di lei come strumento per la sua vendetta. Ecco, quindi questa è la dimensione in cui si è mosso la sceneggiatura. Per il resto il film è un film abbastanza splatter, come è nella cifra di Aristide Massaccesi, forse meno rispetto a Buio Mega, a Antropofagus e a altri film, a Rosso Sangue, a altri film appunto horror suoi precedenti, però comunque non mancano anche qui delle scene di impatto molto violento. C'è appunto una citazione abbastanza evidente da Frankenstein, G. James Whale, ma soprattutto, dicevo, dal libro di Mary Shelley, ossia quando il mostro risorge appunto nell'obitorio, perché la ragazza in coma telepaticamente guida praticamente un cavo, un cavo elettrico che va a cadere sul corpo inanimato del futuro mostro e questa fortissima scarica elettrica che l'organismo umano riceve fa sì che appunto l'uomo risorga, ovviamente risorge per uccidere. Un'altra cosa da dire sul film è la presenza di Donald O'Brien, che è il protagonista naturalmente, il mostro. È curioso, perché è curioso? Perché cercava appunto un attore che facesse questa parte naturalmente, Aristide, e quindi il caso ha voluto che Donald O'Brien cadesse in casa. E quindi ha riportato una sorta di semi paresi della parte del corpo, con una mano anche leggermente rattrappita. Quando è stato scelto ovviamente per fare Frankenstein, si è mosso, nel film si vede naturalmente, così, in maniera così convincente, così suggestiva, da sembrare veramente calato nella parte. Però è stato appunto un conto delle circostanze perché è un incidente domestico che ha portato a questa sua, diciamo, forma di così, di claudicante, no? Ecco. Donald O'Brien è un attore che già aveva lavorato con Massaccesi, per esempio in Emanuele e gli ultimi cannibali. È una figura ricorrente nel cinema di genere italiano, lo ricordiamo anche, per esempio, nel ruolo dello scienziato pazzo in Zombie Holocaust di Marino Girolami, ma anche in altri film, anche La Setta, per esempio, di Michele Soavi, e così via. Frankenstein 2000 è un po' il segno evidente della passione che Aristide Massaccesi, Gioed Amato, nutriva nei confronti appunto del fantastico, dell'horror, del thriller. Non a caso, qualche anno dopo, nel 97 se non sbaglio, dirige un thriller erotico, La Iena, e in seguito, pur lavorando soprattutto nell'ambito dell'hard negli ultimi anni, però aveva comunque delle altre idee, degli altri progetti, sempre riguardo il genere horror. Per esempio, avrebbe voluto rifare, gli sarebbe piaciuto molto, fare una sorta di remake di Deliria, appunto il film di Michele Soavi, con cui appunto ha cominciato la sua carriera di regista. Perché in effetti Deliria è una storia che si prestava molto a un altro tipo di ambientazione, resideva pensato a una stazione televisiva, a uno studio televisivo di una grande emittente.